Intanto una serie di proposte che saranno sottoposte ai tanti cittadini, agli ordini professionali, alle associazioni datoriali, sindacali che vorranno intervenire, ai professionisti che vorranno intervenire e sono i temi che oggi segnano una problematica nella regione Abruzzo e nelle città, ovvero l'aggregazione dei territori per potersi rilanciare con i comuni che sono sempre oggetto di tagli continui e non riescono più ad attrarre investimenti, il tema del lavoro che è la priorità della regione Abruzzo e dello sviluppo, il tema della ristrutturazione della spesa sanitaria, del sociale, dei diritti e della famiglia che sono per noi gli elementi fondamentali della nostra appartenenza e della nostra azione. Noi vogliamo portare delle proposte, per fare questo abbiamo inventato un contenitore di analisi delle proposte legislative che presenteremo, con le incontreranno l'interesse di chi vorrà intervenire e da una parte un confronto che può essere anche molto duro, ma sulle idee con chi oggi governa il principale comune della nostra provincia, ovvero Pescara e la provincia di Pescara e la regione Abruzzo. Un modo nuovo, per la prima volta affrontiamo una competizione del genere, vogliamo dimostrare che la politica, soprattutto in questo momento dove c'è una grandissima difficoltà, gli abruzzesi soffrono di più degli altri nostri connazionali perché è la politica di governo che si sta attuando o non sta dando le risposte, quindi noi vogliamo analizzare ciò che è stato fatto e dicendo che secondo noi questi risultati sono talmente negativi che c'è bisogno di una svolta e presentiamo le nostre proposte. Vogliamo dimostrare che la politica si può fare non sempre urlando, ma confrontandosi e discutendo e dando ai cittadini poi una sensazione di governabilità che possa portare dei risultati.